Nella piazza di Rutino si è svolta la serata per celebrare gli alunni della scuola secondaria di primo grado vincitori del premio sociale School Movie 2024. Presentato da Roberto Scola l'evento ha visto salire sul palco il sindaco padrone di casa Giuseppe Rotolo, il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri, il neo eletto presidente della comunità montana Alento Montestella Luigi Guerra, già sindaco di Lustra, il provveditore agli studi di Salerno Mimiminella, il comandante della locale stazione dei Carabinieri, maresciallo Raffaele Carillo. Dopo i saluti di rito è stato proiettato il cortometraggio intitolato La Forza dei Bambini, a seguito del quale si è aperto un dibattito sulla violenza di genere tra le mura domestiche, coinvolgendo anche i piccoli attori del corto tra il pubblico presente. L'avvocatessa Di Martino e la dottoressa Monzo hanno esaminato le dinamiche familiari e le ricadute psicologiche della violenza assistita. In seguito la presidente di School Movie, Enza Ruggero, la professoressa Gargano, referente del progetto School Movie e ideatrice con gli allievi del cortometraggio dal titolo La Forza dei Bambini, la del Galdo, referente di Plesso, Maria Carmela Verrelli, neodirigente scolastica di Rutino, Monica Mastro Giovanni e Claudia D'Angelo, partecipi al progetto, sono intervenuti raccontando le proprie riflessioni ed impressioni sulla tematica trattata. La serata si è conclusa con l'esibizione delle allieve della scuola di danza Leo Dancing Club.